I primari del Partito Democratico si avvicinano. Il voto infatti sarà domenica 25 novembre dalle ore 8 alle ore 20. Nella provincia di Brescia saranno 188 i seggi a disposizione di tutti i cittadini che vorranno esprimere la loro preferenza. In competizione saranno Pierluigi Bersani, Matteo Renzi, Nichi Vendola, Laura Puppato e Bruno Tabacci. Chiunque volesse votare può iscriversi sul sito www.primarieitaliabenecomune.it fino alla sera di sabato 24. Chi non riuscisse a pre-iscriversi potrà comunque iscriversi presso il seggio di riferimento. Per votare sarà necessario essere maggiorenni, cittadini italiani maggiorenni, recarsi al seggio, ai 188 seggi con la scheda elettorale e la carta d'identità. Per i cittadini non italiani c'è la possibilità di votare non con la scheda elettorale ma con il permesso di soggiorno e la carta d'identità. Si può pre-registrarsi attraverso il sito internet www.primarieitaliabenecomune.it o sempre sul sito trovando gli uffici che hanno caratteristiche per la pre-registrazione. È molto comodo, basta digitare la propria città, il proprio paese e viene indicato chiaramente qual è l'ufficio. Stessa cosa per trovare il seggio, cercare o sul sito dei partiti della coalizione o sul sito del nazionale. Per tutti sarà necessario il versamento di 2 euro.